In Brasile l'hanno subito ribattezzato il teckel più cattivo della storia. Protagonista il difensore argentino Diego Breghieri, centrale dell'Arsenal di Sarandì, che nel corso della gara di Coppa Libertadores contro l'Atletico Mineiro, si è esibito in un folle intervento a piedi uniti sulla tibia del povero Ronaldinho. Per fortuna illeso l'ex milanista se l'è cavata con un grosso stavento per un fallo tanto pericoloso o quanto inutile a tre minuti dalla fine sul risultato di 5-2 per i brasiliani. Netto il rigore ma da dischetto Ronaldinho ha calciato sulla traversa. Grave l'errore dell'arbitro che non ha nemmeno munito Breghieri.